Come va? Ci riesco. Vabbè papà, ma è normale. Guarda che difficile per tutti quello. Io pure non ci sono mai riuscito. La pasta non ti piaceva? Era... Era davanti, eh. La carta. Vabbè ti preparo una mela. Ma semmai nel freezer ci sta un po' di gelato. Guarda papà io devo uscire. Perché non ti guardi un po' di televisione? Vabbè. Sì. Io vado. Ossiasi cosa mi chiami. Chiudi la chiave. Sì. Chiudi.